78esimo anniversario dell'ecidio dei nove martiri aquilani oggi nel capoluogo con le celebrazioni di ricordo iniziate alle nove all'interno della caserma pasquali e proseguite nelle scuole. Era il 23 settembre del 1943 quando i ragazzi aquilani che avevano tutti tra i 18 e i 20 anni furono fucilati. Bruno D'Inzillo, Bernardino Di Mario, Fernando Della Torre, Carmine Mancini, Giorgio Scimia, Francesco Colaiù, Danteo Alleva, Sante Marchetti e Pio Bartolini. Dopo l'8 settembre del 1943 si unirono ai partigiani che cercavano di respingere le truppe di occupazioni tedesche. Per sfuggire ai rastrellamenti si rifugiarono sulle montagne di Colle Brincioni, li furono catturati dal contingente tedesco e condotti nella caserma pasquali dove furono costretti a scavarsi la fossa e vennero fucilati. Nessuno informò le famiglie. Solo dopo la liberazione della città dell'Aquila avvenuta il 13 giugno del 1944 i loro corpi furono ritrovati e le spoglie ricomposte all'interno della scuola dei Amicis. La città dell'Aquila ha dedicato a loro una piazza nel cuore del centro storico mentre un monumento funebre ne ricorda la memoria e l'esempio all'interno del cimitero. Alla cerimonia è partecipato anche il sindaco Pierluigi Biondi con le autorità. Non è la prima volta di Biondi perché nel 2019 parlò ai ragazzi durante la celebrazione e ci fu la polemica con Lampi che bollò il discorso del sindaco come asettico e neutro e non pienamente rispettoso del sacrificio dei nove martiri. A fare gli onori di casa c'è stato il comandante del nono reggimento alpini, il colonnello Gianmarco Laurencing, che ha fatto un discorso incentrato sul sacrificio di questi giovani come tanti altri da allora si sono sacrificati perdendo la vita per un ideale, per il paese. Alla cerimonia anche Monsignor Antonio D'Angelo, vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi appena nominato, che ha invitato tutti a pregare per questi giovani che sacrificarono allora la propria vita per gli altri. Biondi ha invece parlato a Litis ricordando uno studente. In un passaggio del suo discorso ha detto i nove martiri erano dei ragazzi della vostra età e la vicenda che li ha riguardati li ha cristallizzati nella loro bellezza di giovani che con un istinto ribelle, inteso però in senso positivo, decisero di combattere una battaglia che non si erano scelti perché non volevano morire.